Proseguono le attività del Piano Locale Giovani del Basso Canavese, San Giusto il Comune è capofila di questa iniziativa che già va avanti da qualche tempo e con un buon successo. Sì, assolutamente. Quest'anno è il quinto anno d'attività, San Giusto è capofila da tre anni, prima di noi c'è la Mazzè. Diciamo che il Piano Locale Giovani è un progetto in cui credo molto anche perché è l'unica possibilità che i nostri comuni hanno di fare politiche giovanili sul territorio. In questi anni abbiamo sempre cercato di attivare quelli che sono dei percorsi che favoriscono un po' l'aggregazione giovanile, negli ultimi due anni anche grazie alle linee della provincia il tema del lavoro è stato quello più preponderante. L'anno scorso siamo riusciti ad attivare con il budget che avevamo 5 tirocini, quest'anno ne abbiamo attivati 14, di cui solo 13 sono partiti perché uno che era molto particolare la richiesta di personale che veniva appunto richiesto ha trovato lavoro, fortuna per lui e quindi il budget che c'era per il 14esimo tirocini è stato utilizzato per aumentare il rimborso spese mensile per ciascun ragazzo. Le risorse purtroppo sono sempre più striminzite, il futuro è un po' incerto bisogna dirlo ma voi ce la state mettendo tutta comunque per continuare questa attività e per stare al fianco di questi giovani e anche delle aziende locali. Assolutamente, come diceva lei il budget per il piano locale giovani non sappiamo se l'anno prossimo verrà messo a disposizione. Quello che sappiamo è che è stata un'occasione importante per tutti i comuni che hanno aderito a questo progetto per dialogare tra di loro su quelle che sono i giovani, le opportunità per i nostri giovani del territorio e per venire a conoscenza di aziende che sono anche disposte a investire su quelli che sono i tirocini. Quindi speriamo che l'anno prossimo in maniera assolutamente autonoma riusciamo comunque a dare continuità a quello che è stato il progetto di quest'anno. È un piccolo periodo, sono soltanto tre mesi però come diceva lei prima è un investimento per il proprio futuro per la propria vita lavorativa per questi ragazzi. Sì, quello che mi sento di dire ai ragazzi che fanno questo tipo di esperienza è di provare ad essere un po' imprenditori di se stessi quindi di mettere tutto a servizio di questo periodo perché magari da questo periodo si può aprire una porta se ne può proseguire il tirocino nell'azienda oppure tramite questa azienda si conoscono altre realtà che daranno possibilità al giovane di fare esperienze da altre parti. Sono sempre in aumento i numeri, quest'anno ci sono state ben 67 domande da parte di giovani e sono stati attivati in tutto 13 tirocini, sono dei numeri comunque importanti anche per un bacino come questo. Sì, siamo partiti lo scorso anno con 17 domande pervenute al Comune di San Giusto a fronte di 5 posti disponibili sui tirocini formativi di orientamento. Quest'anno passiamo a 13 tirocini finanziati tramite il piano locale giovani, 67 domande di ragazzi appunto da tutto il territorio dei comuni che aderiscono al PLG. Quante sono più o meno e che tipo di imprese si rivolgono a voi? Le ditte sono le più varie, andiamo dal settore della pianificazione territoriale, agricolo marketing, artigianato artistico, abbiamo una lavanderia, una serigrafia, quindi il bacino di profili professionali richiesti è veramente molto ampio e più o meno le ditte sono dislocate su di nuovo tutto il territorio, andiamo da San Giorgio, San Giusto, San Martino, Caluso quindi ricopriamo tutto il bacino del basso canavese. Voi fate anche una grande opera di informazione per questi ragazzi, gli sportelli ci sono praticamente, sono attivati in quasi tutti i comuni, anche quelli più piccoli, ecco chi volesse delle informazioni come può fare quindi? Si può chiedere al proprio comune di residenza gli orari dello sportello dell'informa giovani itinerante che ha una cadenza mensile in tutti i comuni del PLG. Inoltre abbiamo una pagina Facebook, Calidoscopio Giovani, e di lì abbiamo effettivamente i riscontri principali perché ogni mese superiamo i 50 contatti di ragazzi che ci chiedono soprattutto informazioni su offerte di lavoro. Grazie.